Un anno, il 2018, destinato ad essere ricordato per la rinascita dell'area filanda a Valdobiadene, grazie all'intuizione della famiglia Moretti Polegato. Venerdì 12 ottobre è stato inaugurato il corpo principale dell'ex filanda piva di Valdobiadene dopo 20 anni della chiusura e 235 giorni di restauro conservativo. Ma il fatto più importante riguarda la destinazione, divenuta ora la sede della scuola professionale di ristorazione DF. Sì, noi siamo veramente contenti. Era anni che aspettavamo una nuova collocazione dell'istituto professionale DF, ma qui ha superato le nostre attese perché invito anche tutti coloro che non l'hanno ancora fatta a venire a visitare. La sede è sempre aperta, dal lunedì al venerdì potete venire a vederla, è una cosa straordinaria. Abbiamo l'orgoglio di aver fatto dei laboratori e delle aule fantastiche. Siamo la prima scuola che ha il percorso completo di laboratori, dalla materia prima alla cucina, passando per la pasticceria, il laboratorio di scienze, fino a arrivo sulla tavola degli ospiti. È veramente una cosa eccezionale. 1600 metri quadri di superficie dedicati a cogliere 250 studenti, impegnati ad imparare ora i segreti della ristorazione per un successo futuro. Diciamo che questo è un territorio straordinario, è uno tra i territori più belli che il nostro Veneto in qualche modo ha la possibilità di mettere in mostra. Questa scuola è certamente un fiore all'occhiello che è cresciuta non grazie solamente a DF, ma grazie a un popolo che si è messo assieme. Grazie al dottor Polegato che ci ha creduto, grazie alla Regione Veneto che ha sempre sostenuto la formazione professionale e grazie anche al Comune di Valdobbiadene, all'amministrazione di Valdobbiadene, che ha sempre ritenuto questa scuola come una risorsa preziosa del territorio. Marco Pesce, qua abbiamo assistito all'inaugurazione della nuova sede DF, DF che ha già fatto parlare di sé con i suoi prodotti, ultimamente anche con la vincita al Tiramisu Day. Sì, noi siamo stati bravi, abbiamo portato la nostra squadra al concorso del Tiramisu Day che si è svolto il 7 ottobre e siamo arrivati primi. È stato un bel concorso, è stato soprattutto un modo, un ulteriore modo, per valorizzare uno dei tanti prodotti di questo territorio. Come giustamente diceva prima il governatore, la scuola è una foresta che cresce, crescono gli alunni e cresce anche la loro capacità di valorizzare, di dare veramente qualcosa in più a tutti quanti i piatti, i prodotti, alle preparazioni che dovranno portare in alto loro perché sarà il loro lavoro. Gli alunni crescono, cresce la scuola con questa sede. Ci sono progetti in futuro? Sicuramente il progetto dell'agroalimentare, che è un progetto importante a cui noi crediamo tantissimo, quindi il mastro casaro, il macellaio, ma anche veramente il conoscitore del prodotto è un punto di forza in cui noi crediamo. Con i corsi serali, anche qua, noi veramente vogliamo crescere e offrire anche agli adulti quella formazione che magari vogliono avere, che non hanno potuto avere qualche anno fa, oppure se vogliono anche intraprendere un nuovo lavoro, un nuovo vestire, noi siamo qui per offrirlo molto volentieri.